Beh, un buon risultato visto che Antonio Tajani e tutto il gruppo ha lavorato molto bene e quindi noi siamo, come famiglia, siamo vicini, siamo soddisfatti che Antonio continui il lavoro di Silvio. Mi piace il fatto che Silvio sia sempre il presidente di Forza Italia e questo per il bene di questa coalizione che in Forza Italia trova un momento di equilibrio e quindi la trova molto compatta e quindi massima soddisfazione.